Prodotto rinomato del luogo. Flash mob per tutte le sacchine del mondo a Campo dei Fiori, nel cuore della capitale. Uomini e donne vestiti di nero con una maschera bianca senza espressione hanno manifestato in piazza contro la pena di morte per i diritti civili. All'iniziativa organizzata dai giovani del PDL, Officina Futura, hanno partecipato anche le associazioni donne democratiche iraniane. Presente è anche l'eurodeputata del PDL, Roberta Angelilli. domenica, la giornata mondiale contro la pena di morte.